Si gioca la terza giornata della Serie A in quel di grotta agli amici del campionato motori Taranto. E basta così con le presentazioni perché abbiamo fretta di tornare a fare nulla che stavamo facendo prima. Perciò diamo subito lettura delle informazioni partendo dai padroni di casa dell'eredità che schierano Andrea Pinto tra i pali. Andrea Ragnero e Domenico Anastasia al centro della difesa, terzino destro Francesco Motolese, Walter Faiano terzino sinistro. La cerniera di centrocampo è composta da Antonio Ciciriello, Angelo Montanaro e Giuseppe Galiani. Il tridente d'attacco vede Andrea Santora a supporto delle punte Luca Valente e Domenico Annicchiarico. Dalla parte opposta i Rez di Automobili Perrone si affidano a Marco Galatone per la difesa della porta. Il muro difensivo è formato da Iossri Ben Ammar, Francesco Donghia, Stefano D'Aprile e Claudio Tanzarella. In cabina di regia la coppia è formata da Tony Fedele e Alessandro Antonicelli, mentre sulle fasce troviamo Carmine Del Tufo e Francesco Rodia. In attacco Raffaele Manzoli e Nicola Valenzano. Perfetto, gli abbiamo dato tutte le informazioni necessarie per usufruire al meglio degli highlights del match. Sono i Rez Castellanetani i primi a tentare la sortita offensiva. Sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto dalla distanza, Del Tufo intercetta un errato rinvio dei difensori celesti. Lascia partire poi una saetta dal limite dell'area che scalda le mani di Andrea Pinto. Rilancio della difesa celeste. Ben Ammar intercetta. Del Tufo prende palla ma la perde per via dell'intervento di Galiani che subito lancia in avanti per Luca Valente che attacca la profondità con grande velocità. Si porta in aria, supera Galatone ma il suo tiro a botta sicura viene ribattuto sulla linea da Stefano D'Aprile che si godagna una targa ricordo all'ingresso della sede societaria. Corner battuto dalla sinistra. Antonio Cicirello di prima. La palla vola di poco alta sulla traversa. Antonicelli suggerisce in avanti per Valenzano il quale prolunga per Manzoli che ingaggia un duello all'arma bianca con Domenico Anastasia che secondo il direttore di gara atterra fallosamente l'avversario all'interno dell'area di rigore. Il signor Buffano assegna così il penalty agli ospiti. Yosri ben ammarsi in carica di battere l'estrema punizione e al grido di moglie faccio il cucchiaio super appinto con freddezza glaciale. Bella l'esecuzione del numero 15 di Automobili Perrone che vale il vantaggio per gli ospiti. Anastasia batte in avanti per Cicirello che riceve palle e pesca sulla destra Luca Valente che si proietta sulla fascia. Il traversone al centro e per Domenico Annicchiarico che appoggia in rete il pallone del pareggio dei padroni di casa. Dà manuale la verticalizzazione e la finalizzazione dei celesti dell'eredità. Nel secondo finale del primo tempo Alessandro Antonicelli prova a sorprendere Andrea Pinto con questo calcio di punizione dalla lunga distanza. Il pallone vola sopra la traversa. Quarto minuto della ripresa. Antonicelli si prende il pallone al centro campo. Osserva il piazzamento dei compagni ma poi decide di debordare lungo la fascia destra impetuoso come una piena del Nilo. Arrivato al limite dell'aria lascia partire una fiondata che Pinto respinge a fatica. Il capitano dei Rez ritorna prepotente sul pallone ma la sua conclusione accarezza la traversa. Francesco Motolese scarica in avanti per il nuovo entrato Gianni Venza che restituisce il nuovo alinfa all'attacco dei padroni di casa. In questa occasione Galatone chiude il portone a doppia mandata. Francesco Rodia addomestica un pallone selvaggio prima di servire in avanti di tacco per Raffaele Manzoli che elude la marcatura di Ragnero per sfondare in area gagliardo e impetuoso e scaricare così il cross al centro sul quale si avventa predatorio Toni Fedele. Il pallone gonfia la rete della porta a difesa da Andrea Pinto segnando il raddoppio per Automobili Perrone. I padroni di casa si sbilanciano in avanti alla ricerca del pareggio prestando però il fianco alle ripartenze degli avversari. In questa occasione Francesco Cinque che con la punta dello scarpino impedisce a Valenzano di finalizzare al meglio la sua fuoco. Gianni Venza riceve palla sulla tre quarti, finta un passaggio sulla destra e poi rientra verso il centro per bombardare dalla distanza la porta a difesa da Galatone che si deve impegnare un bel po' per evitare il gol. E ancora Venza che pochi istanti prima della fine spaventa ancora Galatone con questo benefico calcio di punizione. I Rez di Automobili Perrone si aggiudicano quindi l'intera posta in palio in una gara piuttosto equilibrata decisa per lo più dai singoli episodi. Ebbene dopo questa forbitissima analisi della partita vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao!